Aveva nascosto la droga in una scatola di farmaci, ma alla vista delle divise della polizia ha cercato di disfarsene, insospettendo così gli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo. Per il pusher, 44enne nigeriano già agli arresti domiciliari per scontare una condanna per spaccio di stupefacenti, sono così scattate di nuovo le manette. È successo lo scorso venerdì, l'uomo è stato notato dai poliziotti nel corso di un controllo di routine. Gli agenti, insospettiti dai suoi movimenti, hanno deciso di recuperare immediatamente la scatola di medicinali frettorosamente gettata, all'interno 5 ovuli di eroina per un peso complessivo di 50 grammi. Per il 44enne è scattato l'arresto, convalidato poi nella mattina di sabato dall'autorità giudiziaria. Al termine del processo, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha revocato la misura alternativa degli arresti domiciliari, ripristinando la custodia cautelare in carcere. Il 44enne è stato così portato presso il carcere di Solliciano.